Ciao ragazzi bentornati sul canale di mca mondo carriera allenatore io sono sempre andre e come sempre oggi siamo qua con un nuovissimo video molto interessante anche questo perché oggi oltre come sempre andare a vedere tutti sempre i nuovi giovanissimi talenti super aggiunti come ieri che abbiamo visto addirittura i migliori 16 anni oggi ragazzi siamo qua con i 25 anni quindi non ci sarà nessuno sotto i 25 anni ma con più crescita possibile almeno quella normale no quella minima perché poi anche loro potrebbero avere il potenziale dinamico ragazzi un video interessantissimo perché qui potrete trovare giocatori un po per tutti i ruoli almeno in questo primo episodio dove trovate sia esperienza che ovviamente ai 25 anni comunque un giocatore è già insomma nei migliori anni no della sua carriera con però anche una buona crescita quindi con anche un netto margine e ancora di miglioramento quindi sicuramente interessantissimo il tiro di iniziare subito senza perdere altro tempo con il primo che è un portiere molto molto conosciuto diciamo così lorenzo montipò perché dico molto molto conosciuto perché ragazzi all'ellas verona si sta veramente mettendo in mostra nel migliore dei modi sicuramente sta facendo un ottimo campionato per il momento sta sempre giocando molto bene su fifa ha un valore di 4 milioni e 6 e ha uno stipendio di 16 mila euro e comunque è un giocatore che parte con un 74 di overall come potete vedere benissimo ma ha un 80 di potenziale quindi partiamo subito con 6 punti crescita a 25 anni e non sono per niente pochi qua vedete al benevento perché chiaramente siamo ancora a inizio campionato diciamo così inizio stagione simulando sicuramente lo troverete in un'altra squadra credo molto sicuramente comunque portiere italiano quindi anche un po di orgoglio italiano 1,91 per 82 kg 2 di piede debole e comunque vi ripeto 4 milioni e 6 di valore e come statistica ragazzi alla fine come portiere devo dire che non è assolutamente male ha degli ottimi riflessi una buonissima presa un buon tuffo un piazzamento mediocre diciamo così un rinvio che sicuramente va un po migliorato 70 di rinvio sicuramente un po pochino per il resto ragazzi è un giocatore veramente completo un portiere completo e lo sta dimostrando proprio anche la realtà considerando anche che ha comunque un 42 di velocità scatto e un'accelerazione 40 che per un portiere ragazzi non è scontato è anche più veloce di alcuni difensori centrali con forza 55 e reattività 71 quindi sicuramente Montipò può essere una buonissima soluzione per la vostra porta a 25 anni per mettere un po di sicurezza e esperienza tra i vostri pali il secondo ragazzi è Mauro Arambarri del Getafe mediano o centrocampista centrale 25enne uruguaiano 80 di ovro il con 85 di potenziale quindi 5 punti crescita anche per l'uruguaiano 3-3 possibilità e piede debole 1,75 per 74 kg quindi un uruguaiano tipo la Torreira un po più alto quindi molto che legna che stecca un bel falegname 28.500.000 di valore 30.500 come stipendio settimanale quindi comunque il Getafe punta su questo giocatore ha un buonissimo valore come statistiche sicuramente non è il più veloce e il più agile di tutti però 79 resistenza 78 forza 77 reattività visione 74 aggressività 83 che appunto il valore e la statistica che rispecchia al meglio quello che dicevamo prima che assomiglia molto a Torreira e poi guardate il livello di lettore difensiva 80 potenza tiro 83 tiro dalla distanza 77 passaggio lungo passaggio corto 78 e 79 è comunque ragazzi ormai un giocatore fatto e finito c'è poco da fare passaggi lunghi e tiro da fuori come caratteristiche speciali insomma ribadiamo a 25 anni un giocatore è veramente nel pieno della sua forma e sicuramente Mauro Arambarri Arambarri scusate con una R sicuramente lo sta dimostrando è un giocatore interessante che cresce anche di 5 punti crescita quindi può essere anche un 85 minimo con delle statistiche ancora più importanti quindi perché non provarlo Ugurkan che sembra un po' una declinazione di Urkukan Kakir portiere del Trabzonspor 25enne turco che va un po' a diventare una soluzione a Montipo nel caso appunto non voleste acquistare Montipo il turco a 80 di overall con 85 di potenziale quindi esattamente come Arambarri è alto esattamente come Montipo 1,91 ma pesa forse leggermente di più 82 kg hanno invece veramente le statistiche uguali a parte che Kakir ha 3 di debole e Montipo ha soltanto 2 è un giocatore Kakir che comunque vale veramente tantissimi soldi guardate ha una clausola di 48 milioni e 4 cioè veramente una clausola importantissima con 53 accelerazioni e 56 velocità scatto e lui è veramente ancora più veloce di Montipo ha un 81 di elevazione un 78 di reattività con delle statistiche ragazzi 80 di tuffo 76 presa 73 rinvio 82 riflessi e 81 piazzamento con anche una caratteristica speciale che è rimessa lunga che va un po' a contrastare il 73 di rinvio che qui è il valore più basso devo dire che questo è veramente un portiere interessantissimo perché ragazzi comunque ha un 60 di atletismo che veramente pochissimo guardate Montipo quanto ha 49 quindi 60 non è per niente poco e 78 di portiere certo Montipo ragazzi vale 4 milioni e 6 Kakir ne vale 48 milioni di clausola o comunque bisogna offrire tra i 31 e i 44 milioni quindi sicuramente la differenza c'è e non poca però insomma per chi non ha problemi di soldi potete scegliere tranquillamente Lucas verissimo difensore centrale brasiliano del Benfica 26enne lui ragazzi perché era all'età minima 25 anni 26 anni veramente forte 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 quest'anno sta uscendo benissimo questo giocatore 79 di overall ragazzi con 84 di potenziale 5 punti crescita anche per lui come vedete ha work di attacco e difesa alto e alto quindi in realtà è un giocatore che non ha assolutamente paura ad affrontare la porta e a spingersi in avanti 23 milioni di valore 15.500 come stipendio settimanale guardate 80 accelerazioni 82 di velocità scatto agilità 57 possiamo anche tra virgolette passarci sopra un'ottima elevazione 81 forza 82 aggressività 85 intercettazioni 81 veramente un giocatore intelligente e aggressivo con per quanto riguarda le statistiche che a lui interessano 81 di lettura difensiva 81 precisione di testa e anche a livello tecnico è un buon giocatore perché ha 72 di passaggio lungo e 73 di passaggio corto con anche passaggi lunghi come caratteristica speciale e un guel controllo palla di 69 quindi questo verissimo in quest'anno al Benfica è veramente uscito molto bene perché non me lo ricordo molto gli anni scorsi sinceramente ma quest'anno ho visto che tanti lo utilizzano tanti ne parlano anche nella realtà sta facendo molto bene quindi sicuramente verissimo può essere un'altra soluzione che chiaramente costa perché sono 23 milioni almeno da sborsare per questo giocatore però comunque hanno tutti i 25 anni quindi a parte Montipò per adesso più o meno la cifra media è stata di 20 milioni diciamo così quindi sicuramente verissimo può essere una buona soluzione altro difensore centrale, altro brasiliano stavolta al Galatasaray 25enne Marsau 77 di overall con 83 di potenziale quindi anche per lui 6 punti crescita anche lui come verissimo worker di attacco e difesa alti e alti 1,85 per 81 kg quindi un bel mastino non troppo alto ma un bel mastino un mancino con 3 di debole con 14 milioni di valore e una clausola però di 29 milioni infatti potremmo essere costretti a offrire tra i 18 milioni e 5 e i 26 milioni e 7 quindi diciamo che una via di mezzo 22, 21, 22 milioni e ve lo portate a casa abbastanza agevolmente comunque un giocatore che non è veloce come verissimo perché comunque non è lento però 65 accelerazioni e 68 velocità scatto non sono assolutamente gli 80 e gli 82 di verissimo però guardate dal punto di vista della forza aggressività 88, resistenza 92, forza 83, elevazione 86, lettura difensiva 78, passaggio lungo 72, passaggio corto 74, controllo palla 73 con roccia, carisma e passaggi lunghi come caratteristica speciale quindi ragazzi questo Marsau può essere veramente una chicca di esperienza pura pura per le vostre difese tra l'altro con anche un buon punto crescita e secondo me se avete un bel 40 milioni verissimo e Marsau difensori centrali può essere veramente una coppia completa che spacca tutto ultimo giocatore di oggi ragazzi finiamo con un terzino sinistro Carlos Neva spagnolo del Granada 25 anni 78 di overall con 83 di potenziale 5 punti crescita anche per lui mancino che gioca a sinistra quindi piede debole potete anche non guardarlo più di tanto è un giocatore che spinge tanto guardate work di attacco alto quindi un terzino che dovete far andare con 3 dimostabilità 19 milioni di valore, 22.500 come stipendio settimanale e una clausola di 41 milioni quindi purtroppo ragazzi i valori sono molto alti quest'oggi però le statistiche sono diciamo tutte dalla parte dei giocatori 79 accelerazione, 78 velocità scatto, agilità 76, resistenza 79, reattività 74 poi guardate al punto di vista tecnico il passaggio lungo magari evitate di farlo al momento subito con questo ragazzo però cross 80 quindi arrivate fino in fondo grazie anche a un dribbling 74 molto buono 74 controllo palla, 75 lettura difensiva, passaggio corto 71, contrasto in piedi 78 con cross anticipati e dribbatore veloce come caratteristica speciale quindi questo ragazzo è uno con cui potreste anche divertirvi ad andare sul fondo proprio palla al piede andare sul fondo e mettere il cross perfetto per i vostri attaccanti che appunto dovranno essere bravi a incornare e insaccare quindi ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo video spero che l'abbia trovato interessante commentate con chi tra questi giocatori di esperienza ma anche di crescita proverete e comprerete se ovviamente non avete le disponibilità economiche iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, attivate la campanella e noi ci sentiamo al prossimo video, ciao ragazzi